Ciao da Lucia, oggi con la voce che va e che viene voglio presentarvi questo mio poncio maglia l'ho chiamato poncio maglia perché in realtà sono partita da un poncio ma l'ho fatto diventare come vedete una maglia, vedete che allarga in questo modo, è bellissimo, io in questo momento ce l'ho sui jeans quindi comunque può essere anche veramente molto carino messo sportivo ma fatto magari con un altro tipo di filato un po' più lucente, un po' più magari sul nero con dentro del glitter, con dentro comunque dell'urex, può anche essere molto elegante portato su una gonna tubino o su un capo un po' più elegante, portato come un capo un po' più elegante chiedo scusa per la voce, sta andando, non voglio dilungarmi tantissimo nella presentazione di questo capo perché poi la preparazione al lavoro, comunque la presentazione del lavoro essendo stata fatta da me su un campione ridotto ha richiesto delle spiegazioni un po' più lunghe quindi non voglio dilungarmi adesso con delle spiegazioni troppo diciamo lunghe e insomma che portino via troppo tempo perché sennò il video rischia di diventare veramente veramente troppo lungo quindi io vi lascio, volevo farvelo vedere magari da vicino perché la sfumatura effettivamente di questo filato è meravigliosa questo qua è il filato maffi, vedete è chiuso sotto la scella, dietro scende benissimo, segue proprio la curva del corpo io ci tenevo a dirvi di non spaventarvi quando lo fate, se vi sembra, perché mentre lo lavorate quando chiudete le maniche qui allargherà tantissimo e quindi vi darà l'impressione che stia diventando una cosa troppo larga per voi però poi man mano che la lavorazione chiuderà, vedete come allarga molto quindi quando chiuderete le maniche vi sembrerà che qua c'è effettivamente troppo tessuto però poi diciamo che allargandosi farà proprio questo lavoro andrà scivolando sul corpo quindi non sarà più così largo come lo vedete all'inizio perché piano piano scivola e scende quindi vi esorto a non fermarvi e non desistere dal farlo se vi sembra che stia diventando troppo grande per voi perché in realtà, vedete, anche a me inizialmente sembrava troppo grande ma adesso devo dire che mi sonnesso a tantissimo vi mando un grosso bacio la mia minina qua esci dall'inquadratura per favore io vi saluto e vi lascio al tutorial ciao come al solito io sono quella dei campioni andremo a... vi farò vedere come ho realizzato il mio... la mia maglia poncio vi farò vedere la realizzazione su un campione in scala ridotta quindi comunque partiremo con delle catenelle di un numero diverso e quindi avrà delle misure diverse perché in piccolo è più facile farvi capire come l'ho realizzato nonostante sia assolutamente facilissimo da realizzare è veramente semplicissimo e alla portata di tutti però ovviamente facendolo in piccolo voglio darvi delle misure su quello che è invece su quella che è la realizzazione originale della mia maglia poncio e quindi adesso prenderemo insieme tutte le misure allora io ho la spalla la parte della spalla che scende sulla manica quindi sul braccio che è di... ve lo dico subito ho girato il metro 34 centimetri 34 centimetri e io il mio progetto... per il mio progetto ho usato un filato poteva essere lavorato con un tre e mezzo io l'ho usato per averlo più morbido con l'uncinetto numero 4 ho avviato 100 catenelle per questo tipo di scollo che è abbastanza stretto tenete presente comunque che il granny può essere cioè a questo punto come tutti i punti possono essere ingranditi o rimpiccioliti avendo un multiplo un multiplo di 4 non avete grosse difficoltà a farlo più largo o più stretto perché comunque non è un multiplo ampio e di conseguenza basta che aumentate 4, 8, 12, 16 catenelle quanto volete voi e potete ingrandire il collo il totale in totale questa maglia è lunga quindi io calcolo dallo scollo alla punta dallo scollo alla punta è lunga quindi misura 89 cm vi consiglio di fare lunga questa parte quindi il sottomanica il fianco perché poi mentre lo lavoreremo vi farò vedere deve cadere morbido in quanto avendo la forma del poncio è a triangolo molto pronunciato all'inizio vi sembrerà che allarghi troppo quando poi andate avanti a lavorarlo il peso del filato e la lunghezza smussa quella che è la punta quindi poi lo fa cadere in questo modo e non avrete più la punta che spara in fuori detto questo io dalla collo alla chiusura della manica ho fatto dunque 1, 2, 3, 4, 5 7, 9, 11, 13, 15, 17 19, 21, 23, 25, 27 29 giri quindi dall'inizio quindi per arrivare all'altezza della manica ho fatto 29 giri quindi arrivare qua e poi ho rifinito tutto quindi il giro di maglia bassa è solo di rifinitura non l'ho calcolato nei giri e quindi niente ho fatto in questo modo quindi adesso andiamo a realizzarlo comunque più ridotto così riesco a spiegarvi meglio la realizzazione ripeto è semplicissima alla portata di tutti devo dire che la vestibilità di questa alla fine è una tunica perché non posso neanche più chiamarlo poncio perché di fatto non è un poncio vi faccio vedere questo bellissimo filato questo bellissimo filato è il filato maffi lo trovate sul gruppo facebook di Marisa Marino scusate o la pagina di merceria.spillo questo colore nello specifico non c'è più perché io questo l'avevo comprato la scorsa primavera e quindi adesso lei ha dei colori nuovi che sono tra l'altro bellissimi vi consiglio di andare a vedere perché sono veramente molto molto belli i colori nuovi di questo filato questo filato è un maxi gomitolone me ne è avanzato veramente tanto perché mi sembra che sia superiore ai 3000 metri ed è un filato mi sembra che pesi sui 350 grammi o qualcosa del genere purtroppo non ho più il talloncino non ho più le caratteristiche del filato ma se voi andate comunque sulla pagina di merceria.spillo o sul gruppo di Marisa Marino trovate assolutamente tutte le indicazioni su questo tipo di filato che io consiglio molto perché veramente ha una resa incredibile è molto caldo vedete molto morbido e quindi cade proprio diciamo che per questo progetto ha un'ottima consistenza quindi io ve lo consiglio ovviamente adesso il campione lo andiamo a fare con un altro filato perché è soltanto dimostrativo però vedete questo decisamente è un filato veramente all'altezza di questo progettino che è un po' una chicca devo dire la verità avevo visto una cosa simile su un video tutorial spagnolo quindi non è del tutto una mia invenzione diciamo che io l'avevo visto iniziando da un top down a scollo quadrato quindi io l'ho riportato scusate sul poncio chiedo scusa l'ho riportato su un poncio quindi con uno scollo con le due classiche punte del poncio quindi le diminuzioni davanti e dietro ma l'avevo visto diciamo un modellino simile con scollo top down quadrato l'ho voluto variare un pochino per non fare proprio la stessa cosa poi aveva anche un punto diverso quindi l'ho riportato un po' a mio l'ho un po' rienterpretato volevo solo specificarlo perché non è del tutto una mia invenzione io ho visto già una cosa simile però appunto era simile non proprio uguale a meno che vabbè non ce ne sia qualcun altro nell'uncinetto c'è già tutto quindi penso di non essere un'inventrice e di conseguenza probabilmente qualcosa di simile ci sarà già in giro niente bando alle ciance andiamo alla realizzazione di questo facilissimo e carinissimo poncio maglia allora per il nostro campione ho avviato 64 catenelle quindi andiamo a chiuderle a cerchio ecco qui le chiudiamo a cerchio come tutte le lavorazioni dei ponci o comunque le lavorazioni top down chiudiamo in cerchio ecco qui andiamo a realizzare il primo giro di mezza maglia alta quindi facciamo due catenelle e lavoriamo in ogni catenella sottostante una mezza maglia alta fino ad arrivare a 32 mezze maglie alte quindi ora arrivo a 32 e ci rivediamo appunto sulla trentaduesima eccoci qua quindi arrivati alla trentaduesima mezza maglia alta non facciamo altro che fare tre catenelle e scusate due catenelle mi sono confusa due catenelle e continuiamo assolutamente nella maglia successiva quindi di nuovo partiamo con le mezze maglie alte fino alla fine del giro scusate ho delle difficoltà ad entrare nelle catenelle mi capita sempre il primo giro è sempre quello più ostico perché tendo a stringere molto le catenelle e di conseguenza poi quando devo rientrarci è sempre un po' un pasticcio però ce la facciamo quindi mando alle ciance ci vediamo alla fine del giro eccoci qua alla fine del giro quando saremo arrivati alla fine del giro invece di fare siamo quindi sul dobbiamo creare il secondo dei due angoli cosa facciamo? invece di fare le due catenelle e congiungerci sulla terza sulla seconda perché è una mezza maglia alta catenella ad inizio cosa facciamo? carichiamo entriamo nella seconda maglia alta ne usciamo e praticamente creiamo una maglia alta quindi ci ritroviamo invece di fare le due catenelle facciamo la maglia alta perché così noi ci ritroviamo già al centro dell'angolo e non avremo quella bruttissima ed antiestetica riga di giunzione io di solito quando faccio le maglie con gli angoli se ho la possibilità di avere le due catenelle nell'angolo tendo sempre invece di fare le due catenelle per chiudere a fare la maglia alta in modo vedete noi siamo proprio al centro dove noi dobbiamo iniziare a fare la prima metà dell'angolo granny e quindi non andiamo a dover camminare con maglie bassissime o quant'altro siamo già al centro quindi procediamo con il nostro punto granny come al solito quindi partiamo facendo le nostre tre catenelle che sostituiscono la prima maglia alta entriamo quindi nell'angolo che abbiamo appena creato e facciamo la nostra seconda maglia alta rientriamo di nuovo in quest'angolo e facciamo la nostra terza maglia alta una catenella di separazione saltiamo una maglia alta sottostante e dalla prossima per le prossime tre mezze maglie alte sottostanti andiamo a fare le nostre tre maglie alte quindi la prima in quella successiva facciamo la seconda e in quella dopo facciamo la terza di nuovo la catenella saltiamo la maglia sottostante alla catenella in quella successiva facciamo la prima maglia alta in quella dopo la seconda maglia alta e nella successiva di nuovo maglia alta e quindi procediamo così quindi catenella saltiamo una maglia sottostante e andiamo ci portiamo facendo questi blocchi da tre separati dalla catenella e saltando la maglia sottostante quindi il classico punto granny io lo spiego sempre in questo modo perché potrebbero esserci comunque delle persone che fanno per la prima volta questo punto e di conseguenza lo spiego in maniera più accurata però è proprio il classico punto granny quello fatto dalle tre maglie una catenella sui lati e tre maglie alte due catenelle e tre maglie alte negli angoli quindi è proprio il classico punto granny adesso procediamo così fino al prossimo angolo e lo facciamo insieme eccoci qua siamo arrivati all'altro angolo quindi ho fatto il blocco da tre faccio la catenella quindi entro nel foro che ho preparato con le due catenelle dell'angolo e faccio tre maglie alte due catenelle e di nuovo tre maglie alte una due si sente lo scricchio lì o del filato fatto l'angolo facciamo la catenella saltiamo la maglia in quella successiva quindi state sempre attenti nell'angolo qual è la maglia perché a volte la maglia gira nell'angolo e a volte gira esterna in questo caso gira nell'angolo e quindi prendiamo quella successiva ecco qua la prima la seconda e la terza ecco qui procediamo in questo modo quindi punto gremi anche per tutto questo lato eccoci arrivati al secondo angolo quindi ho fatto la catenella ora entro nell'angolo faccio le mie tre maglie alte due e tre carico e nella terza catenella d'inizio entro scusate sono uscita entro e invece di fare le due catenelle faccio la mia maglia alta così mi ritrovo nuovamente vedete al centro delle tre maglie della tre maglie da un lato tre maglie dall'altro e sono al centro del nuovo angolo ho creato quindi il nuovo angolo ora procediamo normalmente col secondo giro granny quindi facciamo sempre le tre maglie alte nell'angolo e sono la nostra metà angolo perché ovviamente questo verrà sempre chiuso poi girando quindi catenella ed ora è semplicissimo andiamo a lavorare all'interno dei fori che abbiamo creato con la catenella quindi il nostro classico punto granny prevede proprio le tre maglie alte nel foro creato dalla catenella sottostante la catenella per saltare le tre maglie alte si carica si entra nel foro successivo per andare a fare le nostre successive tre maglie alte e quindi il blocco da tre nuovamente scusate vado un po velocemente così arriviamo quindi di nuovo la catenella saltiamo le tre maglie lavorate sotto e andiamo nel foro a fare le tre maglie alte ripeto io lo spiego così molto dettagliatamente so che molti di voi il punto granny lo sanno già fare però non do per scontato che lo sappiano fare tutti e quindi lo rispiego però so che è uno tra i punti più utilizzati il granny quindi lo sanno fare diciamo in molte di voi molte di voi lo sapranno già fare quindi questa spiegazione risulterà un po pesante da riascoltare ma non do per scontato che lo sappiano fare tutti e quindi ve lo faccio rivedere questo è l'effetto che deve venire quindi ripeto sugli archetti da una catenella sottostante si lavorano le tre maglie e si crea un archetto da una catenella sopra alle tre maglie sottostanti quindi si procede sempre in questo modo arriviamo all'altro angolo e ve lo faccio rivedere dopodiché vi ripeto per quanti giri l'ho fatto io sul progetto originale prima di arrivare alla chiusura quindi prima di creare lo scalfo della manica 15 eccoci arrivati all'angolo ho fatto la catenella rientriamo nel foro dell'angolo e facciamo le nostre tre maglie alte due catenelle e di nuovo tre maglie alte 1 2 e 3 la catenella di nuovo nello spazio successivo alle tre maglie alte entriamo e facciamo tre maglie alte due tre quindi procediamo nel medesimo modo fino all'altro angolo ecco 15 15 scusate ecco quindi arrivati al metà angolo già lavorato rientriamo dove abbiamo già lavorato appunto l'altra metà facciamo le tre maglie alte due i tre e al posto delle due catenelle carichiamo e nella terza maglia d'inizio entriamo e facciamo la nostra maglia alta così da ritrovarci di nuovo al centro del nostro angolo vedete abbiamo creato il primo angolo ed il secondo angolo ve lo metto in questo modo così ve lo faccio vedere vi faccio vedere in totale ecco qui il nostro scollo viene bello pronunciata viene bella pronunciata la via a me piacciono queste vi pronunciate anche perché di solito i top down sono tutti a scollo quadrato sono tutti a scollo tondo a me quando si fanno i top down con i ponci con queste cose o si fanno proprio i ponci che hanno questa curvatura con la vi molto pronunciata a me piacciono veramente tanto poi è una questione di gusto però devo dire che a me piace molto adesso vi ridico vi ridico le misure per il mio lavorato quindi con l'uncinetto del 4 io adesso questo lo sto lavorando con il 4 e mezzo ma il filato originale l'ho lavorato con l'uncinetto del 4 e vi ridico le misure ve le ho dette all'inizio ma ve le ridico così sapete esattamente se volete farlo della stessa dimensione del mio quindi il mio è una taglia 42 io sono alta più o meno 1,68 1,70 e quindi vi dico la taglia del mio poi voi andate avanti sulle vostre misure se non volete provarlo addosso prendete una maglietta questo vi consiglio di provarlo addosso perché la manica è scesa quindi avendo la manica scesa è difficile calcolare lo scalfo ben preciso io vi consiglio di provarlo addosso come tutti i top down quando arrivate a chiudere quindi accostare il lembo davanti con il lembo dietro calcolate che c'è ancora un giro quindi se vi va stretto calcolate che avete ancora un giro di lavorazione davanti e uno dietro quindi sappiate che diventeranno due giri state molto stretti sotto l'ascella perché appunto poi io sono rimasta stretta e se avete visto nella presentazione è allo scalfo della manica abbondante quindi tenetelo piuttosto aderente all'ascella onde evitare poi di averlo effettivamente troppo abbondante ora vi ridico le misure per scrupolo e poi facciamo un pezzetto insieme quindi farò un pezzettino che vabbè assolutamente è un campione quindi faccio giusto un pezzettino per scendere per farvi avere l'idea di quello che dovete fare per la chiusura dello scalfo manica e quindi poi vi faccio vedere proprio quel procedimento dopodiché potrete continuare da solo perché si lavora esattamente come un poncio una volta chiuse i laterali per le mani che voi andrete avanti a lavorare in tondo esattamente come se fosse un normalissimo poncio quindi fino alla misura che voi desiderate quindi alla lunghezza che desiderate quindi io nel mio originale ho fatto 29 giri allora inutile che io vada oltre perché tanto questo è un campioncino che poi io dovrò disfare e quindi mi fermo qui per la spiegazione è più che sufficiente cosa andiamo a fare allora noi allineiamo per chiudere per i nostri scalzi ovviamente dovrete aver preso le misure quindi cosa fate quando ve lo mettete addosso per prendere le misure non so attaccate su uno dei dei due forellini la misura chiudete quando poi lo togliete quindi farete la prendetelo da una sola parte tanto il granny è facile sovrapponete esattamente gli angoli ovviamente coincideranno i fori del granny contate i fori e arrivate a chiudere alla stessa misura quindi conterete uno due tre quattro prendete dietro uno due tre e quattro li unite proprio al centro del foro e farete la stessa cosa dall'altra parte per quello che vi dico prendete la misura pure da un lato solo perché è sufficiente il granny è facile proprio perché ha i blocchi e i fori quindi uno due tre quattro alzo uno due tre nel quarto io adesso ho scelto il quarto voi sceglierete quello che vi pare metterete i vostri marca punti e procederemo in questo modo ricominciamo la lavorazione del nostro mezzo angolo e quindi andiamo a farla tutta quindi le tre maglie alte la catenella lavoriamo quindi fino alla chiusura dello scalfo manica il nostro punto granny adesso qua non stacco la registrazione perché tanto essendo in piccolo ci sono già arrivata faccio così uno e tre entro in quello che è quindi dove ho messo il marca punti il marca punti si sposta perché tanto scusate il foro è grande quindi ci sta sia l'uncinetto che il marca punti senza staccarlo per evitare di perdere poi la maglia cosa faccio faccio le mie tre maglie alte senza fare catenelle volto il lavoro ed entro nella corrispettiva maglia vedete c'è il marca punti anche di qua con altre tante maglie alte perché non ho fatto la catenella perché nel giro dopo andremo a riempire quello spazio dove non ho fatto la catenella comunque con tre maglie alte quindi andremo a creare le tre maglie anche in questo spazio però di solito tendono ad allargare quando vedete adesso noi andiamo a togliere il marca punti e queste tendono a lasciarsi andare io per non avere troppo gioco qua in mezzo quindi per non creare uno spazio che diventa un buco incredibile cosa ho fatto ho semplicemente sono passata dalle tre maglie alte alle tre maglie alte dall'altra parte senza nessuno spazietto dopo noi in questo praticamente gireremo attorno a questo spazietto e agganceremo le tre maglie alte che andranno a creare il granny dentro nel nostro scalfo della manica quindi procediamo esattamente nello stesso modo dall'altra parte quindi facciamo continuiamo con il nostro punto granny anche da questa parte quindi arrivati all'angolo lo facciamo normalmente chiedo scusa per la voce che intanto è andata mai viene facciamo normalmente quindi le tre maglie alte le due catenelle le tre maglie alte 2 3 catenelle facciamo i blocchi per arrivare all'altro scalfo ecco qua 1 2 3 catenelle 1 2 3 catenelle come fatto dall'altra parte quindi entriamo dove c'è il marca punti facciamo le tre maglie alte 2 e 3 senza catenella di separazione giriamo il lavoro e sempre dentro dove c'è il marca punti entriamo con altre tre maglie alte quindi catenella andiamo a chiudere il nostro lavoro quindi il nostro giro lo andiamo a chiudere in questo modo quindi siamo nella metà angolo e andiamo a chiudere la metà angolo come sempre filo sull'uncinetto terza catenella d'inizio e chiudiamo con la maglia alta ora possiamo togliere anche questo marca punti ora si procede in questo modo quindi vedete come si è scusatemi il lavoro è così ora procedendo a voi sembrerà che questo lavoro si stia ingrandendo veramente molto in realtà sappiate che non è così nel senso che andando avanti con il lavoro queste punte inizieranno a scendere dritte quindi inizialmente usciranno in fuori in questo senso ma man mano che il lavoro crescerà le punte gireranno verso il basso e quindi scenderanno dritte per poi allargarsi sui fianchi quindi vi faccio vedere come congiungere quindi facciamo ancora un giro insieme dopodiché io direi che possiamo procedere 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 da sole scusate faccio fatica con la voce e parlo anche malissimo quindi facciamo esattamente quello che abbiamo fatto fino adesso le tre maglie alte la catenella quindi andiamo avanti col punto granny normalmente come abbiamo fatto fino adesso così di nuovo un altro blocco in questo modo catenella un altro blocco adesso vado un po' più velocemente perché intanto il grosso della spiegazione è andato e non voglio tenervi ulteriormente qui a guardare il video vedete qua non abbiamo fatto catenelle non è importante perché noi adesso carichiamo il filo entriamo direttamente così cioè quindi passiamo sotto alla lavorazione così proprio passiamo la avvolgiamo in questo modo e abbiamo creato la lavorazione attorno alla scalfo della manica quindi abbiamo fatto la nostra catenella e ricominciamo naturalmente a lavorare il nostro punto granny in questo modo catenella di nuovo il blocco in questo modo catenella ora io passerei all'altro angolo scusate fatto quest'angolo passerei nuovamente all'altro scalfo così vi faccio vedere di nuovo come lo facciamo dopodiché vi spiego come proseguire ma è molto semplice sono arrivata all'altro scalfo quindi ho fatto il blocco precedente la catenella carico vedete sono qui nel foro della manica prendo il lavoro carico e passo sotto senza entrare nella catenella perché la catenella non l'abbiamo fatta quindi se noi entrassimo da qualche parte dovremmo entrare o nella maglia di questo blocco o nella maglia di questo blocco e insomma non mi piaceva la cosa quindi ho preferito entrare in questo modo quindi procediamo di nuovo cioè continuiamo sempre con il nostro lavoro da qui in poi in pratica noi non faremo altro che andare avanti come qualsiasi altro poncio a girare in tondo noi andremo avanti a girare in tondo per tutto il nostro poncio che ovviamente non è più un poncio perché vedete è diventato una tunica quindi per questo l'ho chiamata l'ho chiamato poncio maglia perché in realtà si lavora come un poncio ma alla fine viene fuori una maglia io concluderei qua il tutorial non solo perché la voce sta andando definitivamente in cantina ma perché è già stato troppo lungo e ho già parlato abbastanza anzi vi chiedo scusa mi sono dilungata un po' troppo in questo tutorial ma la parte iniziale secondo me meritava una spiegazione un po' più approfondita ripeto è facilissimo ma insomma per chi si affaccia per la prima volta nel mondo dell'uncinetto obiettivamente qualche piccola spiegazione in più ci vuole quindi io vi saluto vi do l'appuntamento al prossimo tutorial saluto tutte le mie amiche del gruppo facebook creando con luci e franci saluto le amiche del gruppo facebook di marisa marino e le amiche di punto spillo saluto marisa marino saluto le mie amiche franci e cristina e vi do l'appuntamento al prossimo tutorial spero di essere stata anche questo in questo tutorial esaustiva tanti baci da lucia ciao ciao ciao